Oh, 100.000 euro! 106.000 euro in gioco su questa risposta. Comunque, abbiamo capito che lei la musica del Guardiano del Faro non l'ha sentita. No, non l'ho sentita. E guarda, se lei è il maestro mi dispiace moltissimo. O forse l'ha sentita ma non sa che sia del Guardiano del Faro. Sì, sì. Per 106.000 euro. Milla euro, sì. Signor Federico, di 67 anni, è lei per caso il Guardiano del Faro? Sì, sono io, Guardiano del Faro. Sì! È lui! Eccola la musica! Grazie, maestro. Federico Montiarduini! Eccola, era quella che io cercavo di riprodurre indegnamente. Amore grande, amore libero. Ti ha vinto il festival di San Benzano. Grazie, grazie per aver giocato con noi. Arrivederla. Federico Montiarduini, il Gabbiano del Faro.